... perché oggi non c'è una necessità di confinare in isolamento tutta la popolazione, è chiaro questo, no? Oggi non c'è una necessità di questo. Se dovesse esserci evidentemente un livello superiore di difficoltà sarà il Ministero della Salute, gli interi ed altro che adotteranno misure diverse. Oggi a tutela dei singoli, in via prudenziale per evitare che in maniera accidentale ci sia una diffusione si invitano i cittadini a stare a proprio domicilio. Oggi è una misura di carattere prudenziale che penso che chiunque, soprattutto per se stesso, voglia adottare, no? Perché è l'incomunità del singolo. Però oggi è soltanto una misura precauzionale.